Cosa rappresenta per te recitare all'Eliseo? È un sogno, perché sin dagli anni della scuola di recitazione uno ha dei teatri che dice chissà se ci arriverò mai, insomma, quindi è un piccolo, grande, enorme obiettivo. L'Eliseo è il palcoscenico su cui sono stati i più grandi attori teatrali di sempre, quindi entri all'interno della tradizione teatrale italiana e ne devi essere consapevole, secondo me, perché non puoi entrare qui come se entrassi da un'altra parte. Quindi speriamo di meritarci il fatto di essere qui, mettiamola così.